Tutti si augurano di non averne bisogno, è naturale, ma vedere il nuovo quartiere generale della protezione civile e provinciale appena inaugurato a Voghera aiuta senz'altro a far dormire sonni tranquilli alla popolazione. Siamo in via dei Prati Nuovi, a due passi dalle autostrade A21 e A7 Milano-Genova. È qui che si sono trasferiti la sala operativa e il magazzino con tutte le attrezzature utilizzate in caso di emergenza. Un bagaglio tecnico importante in caso di calamità naturali, acquistato grazie ad investimenti per milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lombardia nell'ultimo decennio. Questo è proprio riferimento di tutti i gruppi e le associazioni della provincia di Pavia, qua fanno riferimento, qua c'è la sala operativa e qua possiamo accedere a qualsiasi tipo di emergenza anche comunque a livello non solo provinciale ma regionale. Sì, qua è depositato tutta la colonna mobile regionale, dei mezzi che ha dato in dotazione la Regione Lombardia e la colonna mobile provinciale, sono mezzi acquistati dalla provincia di Pavia per la gestione delle emergenze. I mezzi sono importanti, gli investimenti regionali negli ultimi anni sono stati ingenti ma senza i volontari si fa poco. Senza i volontari non si fa nulla e io metterei nei volontari anche i nostri ragazzi che lavorano in ufficio perché come si diceva bisogna fare tanto e quando c'è un'emergenza nessuno si risparmia. Senza la protezione civile la provincia di Pavia proprio per i momenti difficili che stiamo vivendo non sarebbe riuscita ad affrontare purtroppo le calamità che noi abbiamo avuto in Oltrepò e nella Lomelina, dall'alluvione al terremoto. Un piccolo esercito, quello della protezione civile che oggi conta quasi 1500 volontari divisi tra 87 gruppi che coprono un totale di 120 comuni pavesi ma il numero, grazie anche ai corsi di base come quello in programma a partire dal 12 ottobre, è destinato ad aumentare. Abbiamo specializzato anche i nostri dipendenti di Marino Scabini e altri nostri responsabili dalle specializzazioni e li facciamo tutti gratuitamente, sempre su autorizzazione di Epolis che è la scuola superiore della protezione civile. Adesso si comincia col corso base e poi ognuno, ogni volontario, ogni gruppo può scegliere di perseguire una specializzazione che va dall'idrogeologico all'antincendio a tante altre specializzazioni che sono nove nella protezione civile. Quello diciamo più sviluppato e comunque così diciamo già molto rodato è l'antincendio boschivo. Grazie a tutti.